Amici di UC Cinema Io vi dico, ma noi vi diciamo Venite al cinema a vedere l'ultima volta che siamo stati bambini Loro sono i protagonisti Io faccio soltanto la regia Com'è questo film? Bellissimo Eh vabbè, com'è questo film? Bellissimo Ma no, di cosa parla? Senza fare spoiler Parla... Va bene, grazie, com'è questo film? Della amicizia Va bene, dovete venire a vederlo Loro sono gli attori, io... Niente L'ultima volta che siamo stati bambini Quanta è l'ultima volta che siete stati bambini? Si è ancora bambina Si è ancora bambina, vero? Al cinema, UC Un film di Claudio Bissi Anche i miei genitori avevano i genitori ebrei Dove li portate? Ai campi Che tipo di campi? Vanno in Germania da Riccardo Non ti dobbiamo andare a liberare Allora non camminare Corri L'ultima volta che siamo stati bambini Solo al cinema